Ad Avellino Biancazzurri a due facce, rimpianti sì ma nuovo K.O. il quinto nelle ultime sei gare, ennesimo regalo della difesa e fatica in mane nel concretizzare. L'approccio completamente sbagliato, squadra lunga, atteggiamento morbido per contro Avellino aggressivo ma non irresistibile. Da finto 9 Canutè crea più di un problema alla retroguardia a Biancazzurra. Il senegalese è sempre pronto ad attaccare la profondità tra i due centrali. Sul lancio di Aia, postura sbagliata di Boben, Brosco e Correo e Sommariva sbaglia non i tempi dell'uscita ma la scelta di lasciare la porta per tentare di contrastare l'avversario, appunto Canutè, che lo aggira e sblocca il punteggio. E l'ennesima svista, numeri impietosi negli ultimi sei incontri, 11 gol incassati, appena quattro all'attivo equamente distribuiti in due partite. Questo significa che in quattro gare il Pescara non ha trovato la via della rete. Spesso per incapacità di costruire. Ad Avellino invece diverse occasioni, concentrate soprattutto negli ultimi 30 minuti di una partita che i Biancazzurri avrebbero senza dubbio meritato di pareggiare. In evidenza Colai, subentrato all'infortunato cupone da parte dell'italo albanese, spunti e giocate di grande qualità. Almeno quattro le opportunità non concretizzate, tre da De Sogos, una da Tupta, sul quale però è stato determinante il portiere Irpino Pasquale Pane. I rimpianti sono legati all'approccio, alla caratura dell'avversario di certo non trascendentale e ai 30 minuti finali nei quali l'11 di Colombo ha assunto con coraggio il comando delle operazioni senza tuttavia concretizzare. Il momento no continua. L'involuzione di natura tecnico-tattica, l'aspetto psicologico è solo conseguenziale. Non può essere mai la causa scatenante. Il Pescara non è più quello di prima, quando probabilmente ha fatto molto di più di quanto sarebbe stato lecito attendersi. Appena un mese fa, prima dello scontro diretto, il Pescara era una sola e tre lunghezze dalla capolista Catanzaro. Dopo sei partite il distacco è salito a 16 punti. Dieci invece le lunghezze di ritardo dal Crotone. Da gennaio in poi, passando per il mercato, l'obiettivo sarà quello di difendere e consolidare il terzo posto.